Vuoi imparare a leggere meravigliosamente bene per tua figlia, per tuo figlio o per i bambini della tua scuola? Ma perché Enrica? Ai bambini si leggi in maniera diversa. Certo che sì. Ti ho già insegnato in tantissimi dei video che ho fatto, perché tu lo sai vero che in questo canale trovi più di 300 video ricchi di contenuti favolosi, infatti mi raccomando segui il canale se già non l'hai fatto. Quello che ti ho insegnato in tutti quei video è che devi cambiare, ma devi per forza cambiare il tuo modo di comunicare a seconda di chi è davanti. Quindi la maniera con cui leggi per un adulto non va bene per un bambino e viceversa, a meno che l'adulto non sia rimasto molto bambino. Eccoti i miei suggerimenti. Prima di tutto ai bambini piace un mondo, una favola, incredibilmente, che si metta enfasi nella voce. Quindi gioca con i suoni della voce, osa! Interpreta tutte le voci dei personaggi e mi raccomando, fa le ben diverse le une dalle altre. E poi metti dentro il fisico! Come mentre leggo? Certamente! Perché i bambini guardano nel loro immaginario, ma guardano attentamente te che leggi. E a loro piace tantissimo quando la voce sorretta anche dal corpo. E poi una cosa che li fa impazzire è la suspense. Quando c'è un momento in cui l'eroe non si sa se ce la farà, oppure il cattivone forse sta per prendere l'eroe, oppure la strega è entrata improvvisamente, improvvisamente tu, mentre leggi, fai una pausa. Una lunghissima pausa. E poi riprendi improvvisamente a leggere con grande forza. Vedrai che il bambino farà così e si sarà tutto emozionato. Ed è questo che lui vuole, emozionarsi. Non sto dicendo di fargli venire un colpo, eh! Però, come a noi, a noi adulti, non piacciono i film dove c'è la suspense, dove l'assassino sta per entrare nella camera, dove c'è la ragazza che vuole uccidere, no? E Netflix è fada padrone in queste cose. Guardate se non fanno la zoomata sulla mano, il rallenti della mano che va sulla maniglia, che si apre molto lentamente con la musica di fondo, non fanno queste cose e poi improvvisamente, tac, danno il colpo, fanno entrare improvvisamente nella stanza. È la stessa cosa. Se ad un tratto la lettura racconta di un momento di lotta, oppure un'avventura in cui l'eroe o l'eroina continuano a correre e a trovare vari ostacoli, ecco, aumenta il ritmo. Fai continui cambi di ritmo, questo esalta i bambini. Non leggere tutto dall'inizio alla fine con lo stesso ritmo. In tutto questo ogni tanto devi guardarli negli occhi, soprattutto se sei un insegnante e hai tanti cucciolotti davanti. E un suggerimento fantastico per i gruppi di bambini, quando avete gruppi numerosi, è fargli delle domande. Serve questo a tenere alta l'attenzione dei piccoli e in più a renderli partecipi. Loro amano essere resi partecipi della cosa, amano intervenire. Per cui potete domandargli. E adesso, secondo voi, ce la farà? Avete sentito qualcosa, bambini? Avete sentito? Cosa pensate che potrà accadere in questo momento? Vedrete che risponderanno immediatamente, in tantissimi, perché rispetto agli adulti sono ancora così ricchi, spontanei, hanno voglia di partecipare. Un'altra cosa che potete aggiungere sono le esclamazioni, proprio dentro al testo, anche se il testo stesso non le riporta. Per esempio, mamma mia, questa strada era veramente, veramente, veramente difficile. E quindi anche reiterare la parola si aiuta l'immagine e l'emozione. Che brutto! Anche questo. Ah, che meraviglia! Ah, era veramente bellissima! Esagerate, divertitevi voi per primi che leggete! Pensate che tutto questo andrebbe fatto anche con i ragazzi delle medie del liceo, non in maniera così enfatica, chiaramente. Vi sto dicendo che anche un insegnante del liceo, quando spiega magari un argomento di storia, dovrebbe metterci carica ed entusiasmo, perché alla fine, anche se è un avverimento storico, pur sempre una storia è. Ricordo ancora mio figlio, quando tornò a casa entusiasta, dalla quarta elementare, mi sembra? In quarta elementare avevano fatto Alessandro Magno. E la maestra deve averglielo spiegato davvero con grande enfasi ed entusiasmo, perché lui tornò a raccontarmi di Alessandro Magno, del cavallo di Alessandro, di quanto Alessandro era forte e coraggioso. Gli era rimasto proprio impresso. Anche al liceo, mi raccomando, non perdete questo ultimo consiglio che vi ho dato per i bambini, nella lettura dei bambini, potete metterla nelle spiegazioni del liceo. Interpellate i ragazzi, spiegate un concetto e poi chiedete loro cosa ne pensano, come vedono l'azione che è stata compiuta politicamente in quell'anno. Cosa pensano loro di questo personaggio storico, dell'avvenimento? Se hanno qualcosa da dire. Tutto questo li tiene svegli, acuti, si sentono importanti, interpellati, collaborano e l'argomento gli rimane molto più in testa. Leggete, leggete tanto i vostri bambini da piccoli, spegnetegli il cellulare, la televisione e leggete, perché attiverete in loro la voglia di incrementare il loro mondo fantasioso con la loro creatività e la creatività ad adulti gli servirà tantissimo. E con grande creatività, immaginazione, fantasia e gioia, metti like al video, segui il canale e condividilo con gli amici.